Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale. In apertura l'economia finisce. Nelle aule di giustizia la vicenda dell'OPA di Sparcasse su Civibank. Il CDA della Banca di Cividale ha fatto ricorso al Tribunale dell'Unione Europea e alla giustizia amministrativa italiana per chiedere l'annullamento dell'operazione. Stupore dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, pronta a reagire in ogni sede. La vicenda dell'OPA di Sparcasse su Civibank si sposta dal mondo della finanza alle aule di giustizia. Anche se l'offerta pubblica d'acquisto lanciata dalla banca altoatesina ha avuto successo, superando la quota minima del 45% del capitale sociale, la partita non può dirsi completamente chiusa. A riaprirla, almeno in linea teorica, le mosse del CDA di Civibank guidato da Michela Del Piero. La Banca di Cividale è pronta a muoversi su vari fronti. Il primo è un ricorso al Tribunale dell'Unione Europea e alla giustizia amministrativa italiana, alle quali è stato chiesto l'annullamento dell'autorizzazione all'OPA. L'apiglio di Civibank è legato alla cosiddetta legge Amato, che introduceva l'obbligo per le fondazioni bancarie di dismettere partecipazioni detenute in altre società e il divieto di assumere nuove partecipazioni di controllo in altre banche. La banca friulana, inoltre, aveva già fatto una segnalazione alla Consob per verificare l'effettivo rispetto del principio di correttezza di parità di condizioni offerte da Sparcasse a tutti gli azionisti. Infine, c'è il fronte aperto a metà aprile dal Comitato Soci e Amici della Civibank, che si è rivolto a Consob e Mise per chiedere una valutazione sulla legittimità dell'operazione. La Cassa di Risparmio di Bolzano ha replicato in modo perentorio, attraverso una nota Sparcasse a morte di aver appreso con sorpresa delle iniziative giudiziarie intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Civibank, con l'evidente intento di ostacolare il regolare svolgimento e l'adesione alle offerte pubbliche, e reagirà in ogni sede. Da Bolzano i vertici della Cassa di Risparmio non temono di aver commesso errori e rimarcano che sia la Fondazione Sparcasse che Sparcasse hanno agito nel pieno rispetto della normativa e sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni. Il Friuli Venezia Giulia ha i primi posti tra le regioni italiane per il tasso di occupazione e l'aumento di export pro capite nel 2021, ma è chiaro che la situazione che si prospetta ci preoccupa per la crisi internazionale venutosi a creare a seguito della guerra. E su questo insieme al Governo nazionale abbiamo messo in campo misure emergenziali che troveranno ulteriore risposta nella legge di assestamento che ci apprestiamo a fare a luglio. Lo ha detto oggi il Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo in videoconferenza al panel a Udine sul mercato del lavoro in Regione. Nella legge di assestamento a luglio, anticipato Fedriga, come amministrazione regionale abbiamo fatto la scelta chiara di recuperare oggi più risorse possibili al fine di poter intervenire a luglio con altre misure importanti nei settori dove si registrano le maggiori difficoltà. Secondo il Governatore è necessario difendere il nostro sistema produttivo per superare lo scoglio della crisi internazionale che ci troviamo di fronte. Un ennesimo shock per la catena di fornitura delle nostre imprese, così Confindustria Udine ha definito il lockdown a Shanghai in seguito al quale si ferma anche il porto il più grande dello scalo commerciale al mondo. Confindustria teme conseguenze ben più forti sul commercio mondiale rispetto a quelle viste nel recente passato se le autorità cinesi non allenteranno le restrizioni imposte dalla politica del cosiddetto Covid-0. Una situazione che si somma al fatto che i prodotti dell'industria sono molti meno di quelli richiesti dal mercato e all'aumento dei prezzi delle materie prime. Gli effetti del blocco del porto di Shanghai saranno evidenti tra 40-50 giorni. Mobilità del futuro. La friulano Icop si ritaglia un ruolo di primo piano nel progetto Grand Paris Express. L'azienda di Basiliano si aggiudica una commessa da 27 milioni di euro. La Icop di Basiliano si aggiudica un nuovo appalto da 27 milioni per la metropolitana di Parigi e un ruolo importante nel progetto Grand Paris Express, il più ambizioso piano di sviluppo nella mobilità urbana in Europa. Dopo la realizzazione delle linee 14, 15 e 16, l'azienda friulana interverrà anche nella costruzione della 18, alla quale si inizierà a mettere mano alla fine della prossima estate. Icop è stata nominata subcontractor per l'accordata che realizzerà la metà delle opere di fondazioni per 54 milioni di euro. Complessivamente l'appalto da 438 milioni comprende la costruzione di 6,7 chilometri di tunnel, di tre stazioni della metropolitana e di otto pozzi di servizio. Icop ha accompagnato il raggruppamento vincitore dell'appalto durante tutta la procedura di gara, contribuendo all'aggiudicazione dei lavori. Dal punto di vista tecnico saranno realizzati, tra l'altro, diaframmi con benna e idrofresa fino a 70 metri di profondità. Il piano della Grand Paris punta a soluzioni multimodali, a servizi di trasporto più integrati, prevede la realizzazione di quattro linee supplementari, 200 chilometri di nuove linee ferroviarie, 68 nuove stazioni interconnesse. Il trasporto sarà completamente automatico e al 90% sotterraneo, servirà 165 mila aziende e trasporterà ogni giorno 2 milioni di pendolari, con un treno ogni 2-3 minuti. Come impresa, commenta Piero Petrucco, amministratore delegato di Icop, abbiamo scelto di lavorare in mercati maturi e sofisticati, dove l'avanguardia tecnica è un valore aggiunto riconosciuto e valorizzato e il sistema istituzionale offre garanzie legali importanti. Per noi la Francia, dove siamo presenti con una filiare dal 2013 continua, è un mercato molto interessante. Siamo molto orgogliosi di avere una nostra parte in un progetto importante come quello della Grand Paris. Ci spostiamo a Pordenone, dove sono quasi terminati i lavori nel quartiere di Torre. A tre anni dall'avvio del cantiere si sta tornando quasi alla normalità. Preoccupa però ancora la presenza di sostanze inquinanti nell'area, contro le quali l'amministrazione sta mettendo in campo alcune soluzioni. Prove di normalità nel quartiere di Torre a Pordenone. A tre anni dall'avvio del cantiere aperti sono arrivati alle battute finali. Resta tuttavia da risolvere ancora il nodo legato all'inquinamento e proprio per questo stanno continuando le misurazioni della qualità dell'aria e del numero di passaggi di mezzi e biciclette. Martedì è stato riaperto il transito in via Zara, dove sono terminate le opere di realizzazione della fognatura e dove nei prossimi giorni verranno completati i marciapiedi. A inizio maggio sono previsti invece alcuni possibili sensi unici alternati in via Stradelle e in via Peruzza per la realizzazione degli allacciamenti. Via Slata per dal lato di via Zara sarà invece chiusa per la realizzazione di un tratto di condotta fognaria. Verranno anche eseguiti alcuni lavori per la posa della fibra ottica. Le asfaltature e la predisposizione della segnalettica orizzontale e verticale sono programmate con la chiusura delle scuole a partire dal 13 giugno. Nelle vie Zara, Stradelle, Baracca, Damiano Chiesa, General Cantore, Carnaro e in tutta la zona interessata dei lavori. Interventi nel loro complesso che hanno consentito di realizzare, come viene evidenziato dal municipio, le fognature prime inesistenti, nuovo acquedotto, nuovi ciclabili e marciapiedi per la mobilità sostenibile e la messa a dimora di un centinaio di alberi. E ora i numeri della pandemia. Dopo il netto calo della scorsa settimana, tornano a salire nuovi casi di Covid in Italia. Dal 20 al 26 aprile sono stati il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente. L'aumento dei contagi è più contenuto in Friuli-Venezia-Giulia, assestandosi comunque a un più 12,2%. Nella nostra regione si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. Sono 1.975. Sono sotto la media nazionale i posti letto in area medica, 12,6%. In terapia intensiva, 3,4% occupati da pazienti Covid. Solo nella provincia di Gorizia si registra un calo dei nuovi positivi, meno 7,3%. Aumentano invece del 17,1% a Trieste, del 16,6% a Udine, del 10,1% a Pordenone, dati questi forniti dalla Fondazione Gimbe. Cambiamo argomento. Indifesi e spaventati fra le macerie dei palazzi crollati e alcuni bisognosi di cure sanitarie urgenti. Appaiono così gli animali in Ucraina, ma a Moruzzo la Fondazione Laica si è attivata per accudire i cani di chi è costretto a fuggire dalla guerra. Aiutare gli animali, contrastando anche il fenomeno del randagismo, con lo scopo di mettere a disposizione i cani per la pet therapy è l'obiettivo della Fondazione Laica. La realtà di Moruzzo ora si mette a disposizione anche per accudire i cani di chi è costretto a fuggire dalla guerra in Ucraina. Soprattutto per aiutare i ricongiungimenti delle persone che hanno per necessità pratica e materiale dovuto lasciare lì i loro amici a quattro zampe. Quindi ci occupiamo di staffette, di organizzare questo tipo di ricongiungimento familiare. Cagnolini che stanno bene o che hanno bisogno di cure? Ci sono anche entrambi. Soprattutto quelli che hanno bisogno di cure e che avranno bisogno proprio del sostegno di tutta una rete, sia delle associazioni che dei veterinari, che delle cliniche veterinarie e anche delle persone che si renderanno disponibili ad ospitarle e ad aiutare. Nonostante una primavera difficile dal punto di vista fisico, Alessandro De Marchi è pronto per il Giro d'Italia dopo la maglia rosa e la caduta dello scorso anno. Quest'anno vuole godersi ogni centimetro della tappa friulana che il 27 maggio partirà da Marano e arriverà a Castelmonte con traguardo volante proprio nella sua buia. Alessandro De Marchi, anzitutto come stai? Un inizio d'anno difficile? Sì, un po' tribolato. Abbiamo fatto lo slalom tra i malanni, tra le cose di stagione. Quindi la primavera è stata un po' difficile, però siamo qui, mancano ormai una settimana e siamo pronti a partire per questo Giro. Dopo quella maglia rosa dello scorso anno, dopo quel sogno, dopo quella caduta, che significato ha il Giro quest'anno per te? L'anno scorso è stato, è sicuramente stato un Giro indimenticabile, ma non perfetto. Avrei davvero voluto arrivare fino in Friuli e quella tappa dello zoncolan che mi aspettava era la ciliegina sulla torta, forse, al Giro. Quindi non è successo perché sappiamo bene com'è andata, ma il buon Enzo mi ha offerto un'altra possibilità e quest'anno farò di tutto per coglierla, che poi sia per provare a fare un risultato o semplicemente per godermi davvero ogni centimetro di quella tappa cambierà poco, insomma. L'importante sarà esserci. Com'è questa tappa? Tecnicamente parlando, proprio che tappa ha disegnato? Tecnicamente parlando, la prima cosa da considerare è che siamo alla terza settimana, diciannovesima tappa, quindi in una tappa del genere può succedere di tutto e probabilmente succederà, perché a fine Giro c'è chi avrà le gambe, chi non ce le avrà e quindi la tappa offre un sacco di possibilità per chi vuole provare a vincere il Giro. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, restate con noi perché subito dopo c'è a voi la linea. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Grazie.